in questo caso ci troviamo all'interno della camera da letto dove abbiamo sempre soluzioni in vendiomassello che ci permettono di andare a creare questo effetto questo gioco di luce fra un pavimento più scuro e uno più chiaro che poi andiamo ad abbinare quelle che sono le strutture del letto e tutta questa batteria che ci permette di ruotare attorno alla camera creando questo effetto diciamo di un ambiente molto più caldo e molto più accogliente è possibile con questa soluzione andare ad arredare tutta la camera in questo caso spostandoci nell'altra stanza è possibile trovare due soluzioni di capire armadio una in vendiomassello e una in laminato colore oro nero